La comunità montana continua sulla strada della prevenzione del dissesto idrogeologico? Sì, anche questa sera l'Assemblea ha approvato mezzo milione di euro abbondante sul riparto dei fondi BIM serio. La stragrande maggioranza di interventi sono legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, secondo una linea che è stata tracciata diversi mesi fa dall'amministrazione e che fortunatamente trova il plauso dell'Assemblea ogni volta viene sostenuta questa linea, questa idea. E questo ovviamente fa molto piacere a tutti noi perché appunto si può andare a lavorare su un tema delicatissimo e per il quale c'è una sensibilità molto particolare da parte degli amministratori che continuano a segnalare dissesti più o meno grandi sul loro territorio comunale e la comunità montana sta cercando di dare una mano a tutti quelli che si trovano in difficoltà partendo da piccolissimi dissesti di 3, 4, 5 mila euro fino a finanziamenti molto molto più corposi per esempio questa sera il più grosso che è stato finanziato è sul comune di Castione della Presolana che tra il BIM serio e il BIM oglio vede un finanziamento di 67 mila euro. Ora la nota positiva è che questa sera ho potuto accennare e introdurre altri finanziamenti che verranno stanziati da qui a fine anno e sto parlando uno specifico di 140 mila euro che sono proprio freschi freschi come si suol dire perché la Regione Lombardia ci ha comunicato nelle scorse ore di un riparto di 3 milioni di euro sulle 23 comunità montane lombarde e la nostra quota è appunto 143 mila e 300 euro sempre per il dissesto, prevenzione o sistemazione strade agrocivopastorali oltre a questo da qui a fine anno ho accennato nelle comunicazioni che avremo circa 40 mila euro per il reticolo idrico dell'Alta Valle e altri circa 46 mila euro per quanto concerne la bassa valle anche qua interventi sempre sul dissesto dopodiché c'è una grossa fetta che è legata ai fondi dell'avanzo dell'amministrazione del 2014 che quindi dobbiamo spendere entro la fine dell'anno solare in corso e quindi diciamo che se continueremo come auspico a spingere pesantemente sulla questione del dissesto diciamo che stiamo muovendo in tutto tra i fondi già finanziati nei primi mesi di quest'anno e di cui abbiamo già avuto modo di parlare che ammontavano a 1 milione 100 mila euro oltre al mezzo milione abbondante di questa serie dei fondi BIM con i nuovi fondi diciamo che grossomodo raggiungeremo la cifra decisamente significativa di oltre 2 milioni di euro in 15 mesi di amministrazione e diciamo quindi che siamo particolarmente orgogliosi e questa politica sta dando i frutti che speravamo quindi quella davvero di dare un aiuto significativo ai comuni su un tema dove c'è un'attenzione e davvero una sensibilità che tutti i sindaci manifestano quotidianamente Siete riusciti a trovare i soldi per mettere in sicurezza la strada per il Monte Pora? Sì, devo veramente ringraziare l'Assemblea di Comunità Montana perché all'interno dei numerosi interventi contro il dissesto idrogeologico di tutta la Comunità Montana sono stati reperiti anche 67 mila euro presi in parte dalle risorse del BIM del Serio e in parte dalle risorse del BIM dell'olio per permetterci appunto di fare questo intervento per risolvere questa situazione questo smottamento che si è verificato il 14 di settembre è un intervento che si aggira intorno ai 110 mila euro con queste risorse noi riusciremo appunto a metterlo in cantiere e a far partire la stagione invernale Grazie! Grazie! Grazie!